Ciao a tutti ragazzi, io sono Ser e benvenuti in una puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus Facciamo direttamente una run, ho bisogno di fare un po' di run con il signor dell'hosto perché devo riprendere un po' la mano altrimenti delirium non lo faremo mai Quindi, curse of the maze subito così, giusto per gradire E anche questo dovrebbe elargire mosche, giusto? Quelli che lacrimano, no, quelli che lacrimano fanno così mosche Dai Ok Ok, se tocchiamo quella moriamo Perché dell'hosto è così, funziona in codesto modo Eeeh, li possiamo prendere entrambi Mmm, andiamo su Bomba Bomba no Allora, è vero che ci dà range infinito Ci dà un range infinito E possiamo attraversare Qui non ci possiamo entrare Possiamo attraversare le rocce, giusto? Eeeh, non mi ricordo Sì Ok Cosa buona e giusta Oh, un bel penny No, un penny Sì, no, un penny Non è un dime Il dime è da 10 Un penny Un nichelino No, un nichelino Non è un penny Un penny è da 10 Esplodi Dai Avrei preferito un altro Tu sei quello rosso No, tu che cazzo sei quello che sei Ah, sì, sei quello rosso Ok Non facciamo nada De nada Di danno Tu potresti anche farti danno Con le tue stesse Sai che pure i fuochi ti fanno danno a te Vero? Eeeh Sì Danno in più per noi Perfetto Quanto meno ritorniamo sopra i tre Sopra i tre Non c'è niente Ok Allora Qua Tutto alquanto No, dobbiamo avere più danno Facciamo qualcosa per il danno Per favore Ok Tutto carino ma Inutile Eh sì, vabbè Certo Con dell'host Con la stanza Poi Ma Ok Però mi serve una chiave Se non mi dai una chiave Non ne usciamo Non voglio una bomba Voglio una chiave Possibile Vabbè Prendiamo danno Chiave Oh, qui dai sempre le chiavi Porca troia In se stanza Ma proprio Però aspetta Zero No, perché volendo Ci poteva essere una minima A parte che non mi ricordavo Come era fatta la stanza Quindi Oh, bravissimo Intelligenza volle Ok, aprivo Del là e prendiamo la chiave Del là Però il danno Mi piace un sacco E adesso spariamo Anche un pochino Più veloce Se non avresti preso Technology Sarebbe una gran bella partita Ma visto che abbiamo preso Technology Questo è Se vi pare Speriamo di Avere un buon patto Con il diavolo Vi devo dire Ammesso che riusciamo Ad averlo Ecco Pin Non è malaccio Come boss Ah che però Nessuno In realtà Noi sepiamo tutto Proprio senza ritegno Alcuno D'oltre tutto Non credo che faccia niente Vero? E invece si Perfetto Ci abbiamo tutte e due In caricamento Ci abbiamo Perfetto Adesso La cosa più figa Sarebbe Trovare Nodleaf Giuston Giuston Nodleaf Dai Dammi Dammi Niente roba Niente roba Ma Si può sapere le chiavi Dove le avete messe Niente chiavi Ma zero chiavi Bro Niente chiavi Ok Proprio non Vogliamo sapere Grazie Molto Obbligato Muori? Allora Facci vedere Facci vedere Bob Srottenella Peccato Però un oggetto E Bob Lo abbiamo toccato Ci andiamo a fare Il boss Io qua Fare così Ah qui posso Entrare gratis Allo shop Aspetta un attimo Ah 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 Vieni 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 Vabbè Problemi proprio Zero Bombe per noi Bombe per noi E si scende Avrei preferito Flat penny eh Quella delle chiavi Però vabbè Una chiave ce l'abbiamo Giustamente Ci dai bombe Perché mi servono Chiavi Nope Non volevo Marire proprio qua Two of clubs Si Una chiave L'abbiamo ottenuta Cazzo Cazzo Eeeh Nope Possiamo tornare indietro Vediamo se qua c'è qualcosa Oh niente gatto morto eh Bastardi Steam sales è sempre cosa gradita Se ci abbiamo ancora un po' di shop da vedere Qua non ci potete esaltare Quindi sto tranquillo Assolutamente no Devo trovare prima la stanza degli oggetti Via Che per forza di qua a sto punto Non so come funziona Cazzo, non me ne aspettavo, non me ne aspettavo ma è possibile. Devo diventare immune alle bombe, inventatevi qualcosa, come faccio a diventare immune alle bombe? Pensate, pensate con me. Ho statto, pyromaniac, vabbè grazie, se abbiamo la possibilità cerchiamo un po' di moneta, che non ci ha regalato bomba però. No, ci sta, ci sta tutta, quindi non ci lamentiamo. Ci sta tuttissimo proprio. Beh, possiamo perdercelo un po' di tempo. Così. Quanti soldi. Averci la chiave per lo shop. Prendere subito un bel oggettino. Carino e simpatico. No, eh. Ma non è che... Non è che tante volte... No. Non può essere la stanza. Vediamo se qua per caso ci dai doni ancora soldi. Qua non c'è niente, ok. Gemini quello... Quello scollegato. Ok. Ok. Scogliata. Vabbè, dai, poi mori. Fammi il favore. Totalmente inutile. Già sta run è partita malissimo proprio. Andiamo a farla finire subito Ancora Non so che fa Ho proprio la cupa lì Oh, saltuariamente farà qualcosa Le lacrime Non ho proprio la cupa lì Facciamo fruttare quella chiave Ho visto che ha avvelenato qualcuno Si Si spara da in retro Ma ho visto lo shop Eh no, perché qua Posso addirittura prendere due oggetti al shop Tipo la mappa E basta E la chiave C'è una chiave? Non c'è la chiave Oh, shì Oh, non c'è la chiave Spara più forte, no? Grande moschito E il moschito Sì, 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 sì E il moschito Sì, sì, sì Moschito Sì, sì, sì Non serve a niente E cambio con Adesso siamo diventati anche abnormi Ecco, una pillola che mi piacerebbe E la combinazione delle pillole Quella sì Non mi dispiacerebbe Merda Troppi HP zio Cioè, veramente Una decina di HP in meno sarebbe perfetto No, voglio prendere qui Non me ne frego Ok, inutile Wow Ho appena sfancolato tutte le chiavi Una chiave l'abbiamo riguadagnata Sono le stanze che odio Questo personaggio Non si è mai dato da arrivare I danni Moriamo? Se Volendo Dai, faccio entrare Wow Non è qua? Che è successo? Betray Insomma, a cose parte Betray Speed up Buono sapere che esiste No? Non ho mai visto di quel colore Ah, era quello che esplode La scanola non può uccidermi Comunque Questa è una speed up No Glass cannon non può uccidermi Magari consolazione, eh Io e niente Ma non funziona Ah, ma non è glass cannon È air converter Sono un pirro È inutile tanto quanto Non so perché ero convinto che fosse lui Ed era lì Tu sei aperto, no? Sei chiuso Se è utile Voi siete convinti Non è qua, eh? L'unico fungo figo Lo ce l'ho già trovato Stai, 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 stai Ok Ok morire speedball va benissimo ancora più veloci non sappiamo quanti cuori abbiamo anche francamente ci interessa fino a mezzogiorno un quarto siamo tanto veloci anche troppo veloci una chiave perché no ok ancora il tap inutili ok c'era non ci avevo guardato va bene qua perfetto va bene ora se stronzo io un la cap no eh proprio quelli schifi che Grazie. E' una fine, dammelo, è un oggetto interessante. Che ram di merda. Ma è male, non fa, non è un gran chiesto oggetto però. Grazie. Grazie. Su, 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 su. No, non farlo mai più. Mamma mia, quanti HP hai però. Però è abbastanza imbarazzante. Ok, anche questo è andato, non vi dico che ci dà una cosa inutile. Altrettanto inutile. Una chiave. Allora, dunk depth. Andiamo prima di qua, no? No, non conveniva andare qua. Ma perché l'ho usato qua? Per prendere una chiave gratis, ecco. Ma perché l'ho usato qua? Dove cazzo hai qualcosa? Allora, io qua lo farei. No, vedi che c'è qua? Eh, sì. Ora mi aiutano. Capito. Finché sono spaventati riesco a colpire almeno questi. inutile. No. 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 Quello ci rende le bombe avvelenate. Una cosa del genere. No. No. Niente. Concentriamoci su di loro. No. Non so mica se ne usciamo. Cazzo. 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 C'è un sacco di accapi veramente tanti. Eh, ma l'ho rischiata tanto. No, pariare di che cosa faccio. Benissimo. Ah, hai rotto il cazzo? No, te lo dico. Questo vero. Per tua info. Cazzo. Meglio ai Pristons. Sì, lo so che quella per ammazzare la mamma è... Profondità 1. Sì. 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 Guardate che schifo che devo fa... Sì. Sì. È tutto perché non sono abbastanza oppi. Sì. 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 Mentre sono più veloci. Sì. 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 Quante sono però? Necronomicon. Necronomicon. Mi può aiutare a pulire le stanze. Sì. Questa non c'è bisogno Questa non c'è bisogno Questa forse si Questa non c'è bisogno Questa non c'è bisogno Questa Ma qua c'è il boss Sotto ce l'ero convinto di no Quindi ok Qua c'è il boss Abbiamo trovato una stanza Che stanza? No qua Oh Facciamo così Così meglio questo No? No? Porca troia Prendo The Bean E morirò con The Bean Sotto giusto No? Sì Non so che c'è un'altra No, non ce l'ha altro, ok? Va bene. Eh, mamma mia, quanto duri, però. Uff, più lontanavo li mette, mortacci, tu qua. Perfetto. Va bene. Quindi, sofferm, andiamo intanto a riprendere questo. Visto che è nostro e ci spetta. E dopodiché ce ne possiamo andare. Altro da fare, un gne. Ce ne andremo su. Non so neanche se il danno fa scattare la pola, forse sì. Ehm, va, dov'è il boss? Sotto. Per forza. Dio, Dio, SGG, eh. Dai, sparate la testa fuori, parca puttana. No. Sei rimasto solo tu. Amico mio. Tu potresti anche andartene per i cavoli che vuoi. Vediamo se è qua. No. Mi tocco. Mi devo fare pure tre dondate. Oh, vaffanculo. Dai. Dai. Ma se è morto. Cicciobombo. No, no, non sei tu. Ok, la stanza questa l'abbiamo fatta. Ah, quindi per cui. La quale può uscire? Eh, lassù. Ci tocca. No, no, no. C'è il resto secco qua. E' una delle stanze che solitamente mi uccide. Quindi era tutto possibile. Eh, vaffanculo. Poi dov'è l'altro? Dai, fenomeno. C'è un altro. Santo cielo. No. 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 Per favore. Non crampus, ti prego. Ah, non è più tutto, sti cazzi. Ma che vuoi? Li faccio con Judas, come al solito. 700 volte l'ho fatto con Judas. No, il course of the last stuff piano è incommentabile. Ho sentito il rumore di una chiave. Ma è un vicolo cieco, giustamente. Figurati. Ciao. Ancora. Vaffanculo. Ah, la posso spostare con le lacrime. Quella roba puzzolente. Perfetto. A occhio non andiamo lontano, eh, lo staranno. Però uno ha sempre la speranza che dici no, vabbè, però da qui divento... Prendo Brinston, divento... P... E invece no. Oltretutto non possiamo neanche andare a fa... Cioè dobbiamo andare proprio a puro qua stavolta. A me poi fanno male gli occhi che... solo Dio lo sa. Ah, e poi c'è lui. E dopo arriva Teddy. E quindi... E quindi... non vedo tinted io continuo a non vedere tinted ho un problema mio serio vista come ne siamo usciti con una serie di movimenti sbagliati come non abbiamo preso danno continuano le domande impressionanti quasi più onesto sbattere su una cacca viola e morire come onesta intellettuale siamo a due minuti di ritardo si vabbè ce la poteva da una stanza vabbè è sciosta dove sarà? in alto immagino oh è davvero esplodi grazie utile mi dicono oh l'ho visto dopo l'avete vista voi anche quella l'avete vista anche voi quella tinted vero? con la coda dell'occhio? io si che palle ma è small rock gioca di non lo so roba mazzetto non comprendo sono addicted questa è una delle classiche stanze dove si prendono una quantità di danni spropositate proprio merda questo c'ha tipo 7 milioni d'hp potrebbe essere qua e invece no aspetta ci sto a pensare la metà bomba almeno uno ho preso si ma come penso di farlo Isaac esattamente ecco un po' il dubbio ce l'ho ma che serve sta stanza? non ho capito me l'affanculo non è da nessuna parte almeno qua lo sapevo che probabilmente c'era il boss e manca uno? serio? e moriremo da Isaac va benissimo mi ha preso da fischia oh really? eh si ah già che sono dark judas quindi adesso ho un sacco di danno in più un sacco no c'è un po' di danno in più eh ci finiremo una ranna classica con dark judas a sto punto vogliamo andare a prendere forse quei cuori in book che stavano in giro proprio vogliamo essere intigliosi che poi 6 con 12 danno non è male eh cioè si finisce una run così non con non con the lost evidentemente però nulla è perduto se troviamo il missing poster possiamo morire e ritornare le poste tutto con questo danno credo oppure no tutto molto bello tutto molto interessante non ce l'ho no no esatto il cuore giusto lì c'è già che non volo più eh stupido io ho preso i cuori buffo scusa ma qua non c'erano cuori buffo non ce l'ho ricordato si passa sotto andiamo su chiavi ne abbiamo 4 oggetti li prendiamo speriamo che ci sia qualche cuore dentro forse off darkness va morire per morire facciamo la epica almeno massi ok come ho preso l'anno ah perché giusto dov'è adesso Isaac? secondo me di là c'è il blue baby scusa cazzo beh ha capito no e mi sa che sono morto se e non ho ricevuto HP è stato stupido io va bene ragazzi questo è quanto avevo detto che prendendo voi oggetti io mi sa che dottor Fidus è meglio che non lo prendo mai va bene ragazzi questo è quanto spero che la RAM vi abbia quanto meno un po' divertito ci sentiamo alla prossima ciao a tutti